Uno dei più grandi ostacoli tra noi e la realizzazione delle nostre passioni è proprio il dover lavorare per sopravvivere. Però questo non è l'unico problema. Io, facendomi giri le mie ricerche, ho scoperto che la società si trova di fronte a un paradosso. Noi abbiamo robot e intelligenza artificiale che aumentano in maniera esponenziale, come ci ha spiegato prima David. Questo significa che, secondo me, i lavori verranno automatizzati ad una velocità senza precedenti. e questo porterà inevitabilmente a un collasso totale del sistema economico. Però, c'è un però, non è finita qui. Sembra una storia terribile, giusto? Quindi questi robot assassini che ci vengono a rubare il lavoro e per noi non c'è più niente da fare. Ma si può vederla anche da un altro punto di vista. Per la prima volta abbiamo la possibilità reale e tangibile di liberarci dalla schiavitù del lavoro per la sopravvivenza. I più grandi geni della storia non hanno fatto ciò che hanno fatto per denaro. Lo hanno fatto perché erano spinti dalle proprie passioni, dal loro insaziabile desiderio di scoprire, di trascendere, di fare qualcosa di bello, di scoprire qualcosa di nuovo, di fare qualcosa incredibile, di essere parte di qualcosa più grande di se stessi. Il grande filosofo Confucio scrisse che se scegli un lavoro che ami, non dovrai lavorare un solo giorno nella tua vita. È bello, è vero, sono d'accordo, però nella realtà dei fatti quanti possono dire di farlo? Secondo lo Shift Index del 2011 almeno l'80% dei lavoratori fanno un lavoro che odiano. Che odiano. Cioè, almeno l'80%. Poi magari c'è un 10% che fa un lavoro che non lo soddisfa un granché. L'80%. Cioè, 4 persone su 5 spende la maggior parte del proprio tempo utile nella vita fare qualcosa che odia. Nel 2012, con questa tecnologia a portata di mano che abbiamo in giro, ma questo non vi fa incazzare? Neanche un pochino? Allora, quante volte avete sentito qualcuno dire io questo progetto figo che vorrei fare, ce l'ho, sta idea, bellissimo, lo faccio, però non c'ho tempo, perché io lavoro tutto il giorno, che odio, arrivo a casa alla sera stanco e non c'ho più voglia, cioè sono stravolto, però mi serve per mettere il cibo in tavola, pagare le bollette. Bene, questo è quello che il mio amico Silvano Agosti chiama il discorso tipico dello schiavo, perché lo schiavo non difende il padrone, cioè non combatte il padrone, lo difende. Il vero schiavo non è tanto quello che ha le catene al piede, ma quanto quello che non è più in grado di immaginarsi la libertà. Allora, intanto noi non dobbiamo mettere la piantina con i fiorellini nella finestra della cella dove stiamo, perché se no, anche quando poi la porta sarà aperta, noi non vorremmo più uscire. Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un favore a darmi un lavoro, adesso penso, ma pensa a te questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. Mi costringono a lavorare 5-6 giorni a settimana e poi mi danno un misero giorno per fare cosa? Come fa uno in un giorno a costruirsi la vita? Allora, immaginate se non doveste lavorare per sopravvivere, immaginate se poteste saltare a piedi pari, tutta la parte devo lavorare per vivere e semplicemente andare a ciò che vi appassiona, a ciò che vi rende felici. Che privilegio sarebbe vivere in un mondo così? Ebbene, io credo che questa non sia un'utopia, io credo che questo mondo sia possibile. Così, negli ultimi anni ho viaggiato, ho fatto ricerche, ho studiato, sono andato alla NASA, a Singularity University, ho parlato con le più grandi menti del mondo, qui vedete Peter Diamandis, Peter Norwick, Aubrey de Grey, Philip Rosedale. Ho fatto discussioni con le menti più geniali del mondo per vedere se questo mondo che io avevo in testa fosse solamente una mia invenzione, fosse effettivamente possibile. E ho scritto un libro che spero possa ispirare le persone a rendere questo mondo una realtà. e l'ho chiamato, no, robots will steal your job, but that's okay. I robot vi ruberanno lavoro, ma va bene. E va bene, ma solamente se ci permettiamo di lasciare andare alcune delle convinzioni che noi, a cui ci stanno così a cuore. e se mettiamo in discussione quello che ci spinge nella vita, qual è il nostro significato? Perché facciamo le cose? E il senso non può essere quello di fare sempre crescita economica, di fare soldi, lavorare, lavorare, lavorare. Oggi facciamo lavori che odiamo per comprare cose che non ci servono per far colpo su gente che non ci piace. Geniale!